E' questo che Gesù è venuto a insegnarci, come amare, come amarci l'un l'altro, senza guardare il colore della pelle, senza guardare la nazionalità, senza guardare se si arricchi o poveri. Io, Madre Teresa, l'ho sempre vista come una donna libera, un cuore libero, e per questo pronto a donarsi a tutti. Madre Teresa è vista in India come una persona in grado di mettere insieme tutti. Con grande amore e rispetto l'uno per l'altro, come un'icona di amore, compassione, carità. La sua santità è delle cose ordinarie, però ha fatto con un amore straordinario. E questo ha detto lei, piccole cose, grande amore. Quindi Madre Teresa non è soltanto per ammirare, ma anche per imitare. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.